La prossima legislatura porterà stabilità al Paese? È quel che noi ci auguriamo e per questa ragione, con senso di umiltà e di responsabilità, abbiamo messo insieme tutte quelle forze politiche che si sono opposte prima alle politiche personalistiche di Berlusconi, poi a quelle di Monti, in un'unica lista, una rivoluzione civile per evitare quella violenta. L'altra volta lei era l'unico alleato del Partito Democratico, che invece ad essere alleato con Vendola potrebbe fare un dialogo con i centristi. Cosa farete nelle regioni in bilico? Lo scopo di questa lista di rivoluzione civile non è di dividere e spartire i posti, ma quello di offrire ai cittadini un'alternativa quando vanno al voto, non arrendersi né alle politiche di Monti, né a quelle di Berlusconi, né a quelle di compromesso che sta promettendo adesso Bersani. Perché ha fatto un passo indietro a favore di Ingroia? Perché l'Unione fa la forza e mai come in questo momento, la società civile, i movimenti, le associazioni, i partiti che si sono opposte a quelle politiche personalistiche delle leggi ad persona, ma che ha fatto Berlusconi prima, e a quelle ragioneristiche di Monti, che hanno tagliato le gambe, le fasce sociali più debili, c'è bisogno di fare squadra comune. Una rivoluzione civile. Quanto vi hanno danneggiato gli scandali? Lei si è proclamato vittima? Lasciamo lavorare la magistratura. Chi, come me, ha rispettato sempre la legge non teme la magistratura. Chi teme la magistratura è quel che ha violato la legge e purtroppo in questi ultimi tempi vanno in Parlamento per farsi le leggi, per non farsi processare.